Benvenuti a Jet Set, rubrica di gossip e immobiliare. Quando una celebrity compra o vende una casa, quando ci sono le grandi operazioni culturali, subito nascono spetegulesse. Allora io insieme ad Andrea Spera le andremo a scovare tutte per farvi un po' di fermolì. Mi metto il posticino mio qua, è questo. Allora Andrea, oggi siccome il tema della puntata generale è la tecnologia, io ho pensato, andiamo un po' a vedere quali sono le misure di sicurezza che si possono prendere per una casa e renderla sicura da Covid. No? Come si fa? Sanificazioni e quant'altro. Non ho trovato niente. Ma perché finora abbiamo fatto una sanificazione fai da te, no? Infatti, infatti, quello che ho trovato è una classifica delle dieci case più sicure del mondo e chiaramente di tutto di più ho visto, dalla paura degli zombie, la paura delle cose nucleari e però del Covid o della pandemia non c'era niente. Però siccome erano belle, strane, divertenti, ho detto vediamole lo stesso. E quindi ho preparato questo filmato. Vedi, questa è la Brown Safe che è praticamente ricavata con una porta che proteggeva la First National Bank. E dentro c'è una casa molto sicura di extra lusso con addirittura cantina dei vini. Ma è un rifugio della casa o è proprio la casa? No, no, è un rifugio della casa. Vedi, è qua. Questa credo che sia la seconda invece di Oppidum che è nella Repubblica Ceca ed è praticamente una mega villa e sotto c'è il più grande rifugio del mondo. Addirittura? Sì. Quanto è grande? Dunque, la tenuta è di 323 mila metri quadri. Stavolta non t'ho detto cifre a cavolo. Ha un tunnel segreto e ha sei appartamenti dentro, indipendenti. Quindi ci possono stare addirittura sei famiglie e addirittura un giardino illuminato. Vabbè, il giardino illuminato. Ma sotto terra dici? Sotto terra. Ah, ecco, non capisco l'eccezionalità. Pensavo, un giardino illuminato. No, 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 sotto terra ci sono sei appartamenti tra i vari... Ipogeo, che fa molto... un giardino ipogeo. Sì, così almeno dà un po' di cusura. Esatto. Poi al terzo posto invece abbiamo Genesis che ha un sistema automatico che porta la casa sottoterra, direttamente sottoterra. In caso di... In caso di... anche lì sempre la paura è il nucleare. Attacco nucleare. E quindi c'è un sistema per cui a un certo punto tu schiacci un bottone e la casa fa... Come un ascensore. E va tutta giù e addirittura sopra viene un pavimento di cemento. Quindi anche se ci sono delle cose nucleari, nemmeno dall'alto può essere contaminata. Attaccata. Poi c'è la flood house al quarto posto che è naturalmente per difendersi dalle flood, dalle alluvioni e da questi rivestimenti in acciaio per proteggere dai detriti o comunque dalle varie rotture che può causare l'acqua. Poi c'è la safe house, ecco quella che stavamo vedendo adesso, che praticamente è un blocco di calcestruzzo e con le pareti scorrevoli. Che tu se le chiudi diventa impenetrabile. Se invece le apri, vedi, diventano delle mega finestre e quindi danno anche illuminazione all'interno. Quindi nelle case dinamiche praticamente sono tutte case che si trasformano all'occorrenza. Esatto, esatto. Poi c'è la bunker house a Las Vegas, che è una villa che a un certo punto va a 26 metri sotto il livello del terreno ed è una residenza di lusso, naturalmente con piscina, giardino, campo da golf, tutto sottoterra. Cioè, ci avresti mai pensato? No, la soluzione dinamica ipogea è interessante, insomma, anche perché non devi avere due case di cui una la usi solo in caso di emergenza, quindi si spera mai, mentre invece è la stessa che all'occorrenza viene messa in sicurezza. Prima di andare avanti con le prossime, ma ti chiedono cose di sicurezza? No, devo dire... Tipo porte super blindate, finestre super... No, cioè, vabbè, i sistemi, diciamo, attivi e passivi tradizionali, quindi parliamo di allarmi perimetrali, infrarossi o sui contatti delle finestre, la classica porta blindata. Le grate qualcuno ancora me le chiede, io di solito le sconsiglio, perché, insomma, è una protezione così, secondo me, facilmente arginabile, insomma, e poi ti costringe a vivere tutto l'anno sempre che poi alla fine ti stanchi di aprire e chiudere queste grate, quindi stai in prigione perennemente, insomma, quindi... Vabbè, questo buono, allora vuol dire che a Roma non c'è un gran problema di sicurezza? Fortunatamente, insomma, è abbastanza limitato e abbastanza contenuto, poi, ovvio, siamo sempre una grande città, insomma, succede un po' di tutto, però... Certo, però il ladruncolo, insomma, non è una... Insomma, con dei buoni... Sì, ma, insomma, con dei buoni sistemi, un buon sistema d'allarme, insomma, poi adesso abbiamo i nostri smartphone, quindi possiamo comunque controllare la casa anche da remoto, quindi ci sono tante altre cose che ci aiutano ad avere sempre un sistema di protezione abbastanza valido. E tenere la casa sotto controllo. Va bene, continuiamo, quindi abbiamo visto quella di Las Vegas, poi abbiamo Villa Vals, invece, in Svizzera, nella famosa valle... In Svizzera quasi tutte le case, invece, hanno il bunker condominiale, anche, insomma, o comunque di proprietà, quindi hai la zona lavanderia, hai una sorta di bunker, quindi con pareti in cemento armato, porte blindate, che ti permettono... Ma è quasi, credo che sia obbligatorio, insomma, è una normativa svizzera, proprio... Ma pensate... No, invece, questa qui è 160 metri quadri ed è tutta scavata nella montagna, non so se sono già passate forse le immagini... Ma è la muecola, è molto bellina perché non si vede neanche ed è tutta scavata, vedi, dentro la montagna, è anche ben arredata, è molto molto carina. Poi, all'ottavo posto, ecco, questa è forte, la Zombie Fortification Cabin, che è praticamente per sopravvivere all'apocalisse da zombie. Ma ora dico, ma chi è che ha paura degli zombie? Io sono una zombie. Non stanno bene, cioè, e quale sarebbe il sistema di protezione? Sicuramente, per sopravvivere all'apocalisse da zombie, hanno fatto una serie di stanze nel sottosuolo, non ha niente di che, però, diciamo, l'hanno chiamata così perché è stata proprio progettata su richiesta dei proprietari all'architetto perché loro volevano essere protetti dagli zombie. Quindi lui, cosa ha fatto? La prima cosa? Ha scavato sottoterra. Vabbè, vogliamo essere eclettici, diciamo. Sì, no, infatti, questi sono matti. Poi al nono posto, Yellow Jacker, nel deserto del Colorado, e anche questo è contro un disastro nucleare, vale 11,5 milioni di dollari, è 4200 metri quadri e ha tutte le pareti in calcestruzzo e acciaio, quindi praticamente è inaccessibile. E poi ancora, Atlas Shelter, è un bunker a forma di tubo, non so se l'è, eccolo, e questo tra l'altro è modulabile perché, diciamo, la forma base è una camera, cucina e toilette, però a seconda del... Beh, se la famiglia cresce, aumenti il tubo. Esatto, delle esigenze può diventare più o meno grande con... quindi queste sono le case più sicure del mondo. A me è piaciuta quella all'inizio con quella porta che sembra un forziere. No, era proprio la porta... È proprio la porta di una banda. È quella molto originale, suggestiva. E a te quale ti ha spiziato di più, ti ha ispirato di più? No, mi piaceva molto l'idea della casa ipogea, che comunque in caso di emergenza si nasconde nel sottosuolo, insomma, quella è una grande idea. Ed era bella anche una delle prime che abbiamo visto, che era circolare ed aveva praticamente tutte le stanze intorno e poi la piscina nel mezzo. E quella è quella che scende giù e sopra viene fuori un rivestimento di acciaio. Eccola, esattamente questa. Vedi, sembra aerodinamica, sembra che voli, invece scende completamente giù nel terreno. Beh, insomma, devo dire che gli architetti hanno belle fantasie. Si sono veramente sbizzarriti e tra l'altro adesso, io penso, faremo da qui a luglio un'altra puntata sempre su questo tema, ma stavolta deve essere protetta anche dalla pandemia. Questi sono quasi tutti bunker, quindi per paure, diciamo, sul nucleare. Per il macro, la cosa piccola e invisibile non riuscirebbe a... Vediamo se riusciremo a trovare. Se la vuoi inventare... Tu pensa come un virus riesce a praticamente a vanificare tutti gli sforzi di... Di cemento. Di cemento, tecnologie, sali, scendi, spessori incredibili, quando poi basta uno sternuto. Veramente. Hai fatto i danni veri. Bene, io ti ringrazio Andrea, ringrazio tutti i nostri telespettatori, vi do appuntamento la prossima settimana, ma restate con noi, perché tra poco ci sarà Giuseppe Strazzera con Square. Alcune invenzioni hanno rivoluzionato le nostre vite. I nostri viaggi, le nostre relazioni e oggi il nostro modo di vendere casa. Grazie al primo Instant Buyer che ti compra casa direttamente, dandoti il 100% della liquidità. Casavo, l'acquirente che cercavo. Non tutte le case si vendono allo stesso modo. Per le case speciali, quello che ci vuole è... Il contatto giusto Silviarossi, realestate.com Il contatto giusto Allo stesso tempo Il contatto giusto Il contatto giusto Il contatto giusto Adlish Ho trovato la soluzione per il nostro appartamento Stay in Rome Apartments Stay in Rome che? Stay in Rome Apartments Proprietari, professionisti Spiegati meglio Sono proprietari che hanno creato una società Che ti permettono di trasformare la tua casa In un orologio per turisti Insomma tu non devi avere più beche burocratiche Non devi pensare alla pubblicità Alla promozione, alla polizia Tu non devi fare nulla Grazie